La notizia l'abbiamo già data, Riccardo Fregoso, Chief Creative Officer, Denzu Creative, tra l'altro l'agenzia diciamo globale del gruppo che ha esordito ufficialmente all'ultimo Cannes, una nomina peraltro che ha avuto il plauso anche dell'internazionale, dal Chief Creative Officer Levron al vostro CEO UK e Demea Morris. Ma veniamo a voi, prima di entrare nel merito ovviamente delle implicazioni strategiche, volevo un parere proprio personale. Emanuele, perché Riccardo? Riccardo perché abbiamo bisogno, avevamo bisogno di un salto creativo qualitativo importante e Riccardo porta un'esperienza internazionale, porta un'esperienza personale e locale, viene da un'agenzia molto importante e prestigiosa, ma soprattutto perché ci siamo incrociati come Riccardo abbiamo incrociato altre persone e Riccardo è scattato qualcosa che dice vogliamo la stessa cosa, abbiamo la stessa ambizione e quindi per noi la scelta è stata abbastanza facile. Riccardo perché Denzu Creative? Perché Denzu Creative? Per due ragioni fondamentalmente. La prima è la grandissima ambizione che tu anche citavi di questo nuovo lancio a livello internazionale, l'abbiamo visto tutti a Cannes con il Wonderful Speech di Fred e poi i tre Grand Prix e il Titanium. Quindi diciamo una forza di attrattività di questo nuovo network che ha tra l'altro la parola creative al cuore e poi assolutamente faccio ecco alle parole di Emanuele, un colpo di fulmine con l'equipe locale, con Emanuele, Stefano, Alessia, Massimiliano, con gli CD, con tutte le persone che fanno parte di questa grande famiglia di più di 250 persone in cui ho trovato un'energia, un entusiasmo, un'umanità, direi proprio dei valori che corrispondono esattamente a quello che mi sembra essere la bellezza e la missione delle agenzie di oggi. Siamo nel merito della visione strategica, tra l'altro Emanuele ha annunciato che insomma state creando un nuovo modello di agenzia, un nuovo modello anche di fare comunicazione, che ovviamente parte e mette un'agenzia creativa globale al servizio se vogliamo di tutte le anime ma anche di tutti i paesi perché poi agita internazionalmente. Perché questo? Credo che ci sia bisogno di innovazione nel nostro mercato, se ne parla, se ne parla da tanto, non siamo i primi a dirlo, tu sai bene perché ci siamo parlati in passato che noi, il nostro gruppo, io in prima persona ma con tutti i miei soci abbiamo sempre provato a creare modelli di agenzia che fossero adeguati ai tempi. A un certo punto siamo entrati in denso con l'idea che fosse il momento di unire media e creatività, adesso è il momento di alzare l'asticella di tutto questo, quindi di trasformare le premesse e le promesse in qualcosa di concreto e di reale e uno step fondamentale era proprio quello di unire, creare il contenitore, creare il brand anche capace poi di tradurre in pratica questa visione di grande integrazione dove la creatività ha il ruolo centrale di promotore, di motore, di tutto il business. L'hai dichiarato tu Riccardo, una creatività che orizzontalmente si connette alle anime denso, quindi anche ai dati ma anche alla customer experience, in che modo? Una domanda molto interessante di cui ti ringrazio, farò un esempio pratico, sono anni che mi ritrovo nella stessa situazione, quando ci ritroviamo davanti a un brief importante, l'inizio di una campagna, una brand platform, si sente sempre, di solito diciamo in quello che è l'ambito delle agenzie tradizionali, la frase lavoreremo con il media e questa cosa, adesso ti parlo della parte media ma naturalmente vale per la parte customer experience, per il CXM e questa cosa resta una promessa vaga, una mail che si perde nei meandri delle comunicazioni un po' di fretta per arrivare poi al dunque, perché in realtà questo tipo di connessione è molto difficile da vivere nel day to day, se non c'è quello che abbiamo noi, ovvero la possibilità di connettersi in maniera fluida e reale. Di solito si finisce con il media che fa il lavoro del media e che arriva con un'offerta, un listino di possibilità di channel e l'agenzia che fa la sua campagna. Quello che noi vogliamo spingere, che pensiamo di poter offrire in maniera assolutamente organica è invece per la prima volta, dal fatto stesso che siamo tutti nello stesso building e che abbiamo tutti lo stesso obiettivo, appunto questa creatività orizzontale, ovvero un osmosi tra queste due entità che dovrebbe permetterci, e lo spero con grande forza e ne ho già visti qualche esempio in atto, dovrebbe permetterci di poter dire lavoreremo con il media e di farlo davvero. Dentsu Creative ha già un team di 250 persone in Italia, tra l'altro siete terzi nel vostro universo EMEA, come agenzia, come successi, quali i prossimi obiettivi? L'ambizione è quella di crescere ulteriormente, di crescere in valore, in qualità e quindi se siamo terzi vorremmo diventare primi del nostro network EMEA. Sarà difficile perché questo stesso discorso lo stanno facendo in tutti i paesi, quindi Dentsu Creative mondo è nuova ed è una realtà grande e ambiziosa, quindi ci aspettiamo che veramente l'EMEA stesso possa crescere, che sia un mercato più importante, le recentissime notizie che avete dato e letto sulla fusione tra Dentsu Japan e Dentsu International vanno nella direzione di aprire ulteriormente il nostro mercato, quindi le potenzialità anche di crescita e quindi noi ce la vogliamo giocare bene. Siamo molto ben strutturati in termini di qualità del servizio, in termini di portfoglio clienti. Ci manca quel pezzettino in più di eccellenza creativa che con Riccardo e con questo nuovo progetto, con una visione e la guida di Fred, ci aspettiamo di poter mettere sul tavolo, quindi veramente crescere in EMEA. Ma il nostro campionato relativo interno è un conto, il campionato che ci interessa di più è quello verso l'esterno, quindi noi abbiamo ambizioni veramente di fare di Dentsu Creative anche in Italia un'agenzia, se non la numero uno insomma, che se la giochi in quel campionato lì. Si dice che la comunicazione insomma deve riuscire ad incidere nella società, nella cultura, nella vita delle persone e ovviamente la creatività in tutto questo ha un ruolo di primo ordine. Tu sei un creativo pluripremiato, un creativo anche pluripremiato a livello internazionale, quindi la domanda è l'importanza dei premi creativi, ma anche che le idee abbiano sempre una valenza, una capacità di funzionare internazionalmente. Alla domanda se i premi hanno un'importanza, sì, sicuramente l'hanno direi anche sempre di più e questo non per una questione diciamo che ogni tanto è evocata di self-reference dell'industria, ma perché veramente sono il segno anche per come i maggiori festival, parliamo di Cannes, D&D, One Show, Clio, per come i festival hanno deciso di evolvere, quindi giustamente di andare nella direzione che citavi, di essere in qualche modo il segno distintivo per una campagna, se riconosciuta dai premi, che c'è stata una profonda relazione con la cultura, con la società, c'è stato un cambiamento, c'è stata una risposta. Allora, oggi avere un premio significa spesso essere stati capaci di costruire una campagna che ha questo tipo di fattori e di risultati, che nasce da basi solide, da clienti forti, grandi, internazionali, che nasce da insight che sono basati su data, su verità, generazionali, sociali, e che arriva a creare un cambiamento. Se pensiamo a quello che è stato quest'anno, il Grand Prix di Vice, o ad All, Pignatex, sono delle campagne che hanno veramente poi nei risultati dei numeri importanti. Quindi in questo il valore del premio è interessante, perché porta il segno di quello che può essere il valore reale di quello che facciamo tutti i giorni. Da qui poi c'è naturalmente anche il fatto che per i creativi in generale resta una tappa importante di carriera, di crescita, di riconoscimento, di self-assurance. E poi naturalmente per i clienti è anche un modo per aiutare a navigare in questa giungla di offerte, di agenzie, di personalità, sapendo che se si vuole andare verso una creatività, diciamo, forte, riconosciuta, capace di dare un imprinting, beh, insomma, ci sono dei segnali importanti intorno all'area dei premi. Modello di business, struttura organizzativa, capacità di attrarre e di gestire i talenti, insomma, tutte variabili che devono e come devono lavorare sinergicamente insieme. Perché poi la creatività riesca anche a esplicare, insomma, dei risultati anche di efficacia per i clienti. Sì, sono tutte facce della stessa medaglia. In un'agenzia creativa credo che la creatività non sia chiusa nel reparto creativo, che non vuol dire semplicemente che le idee possano arrivare da tutte le parti, cosa che è verissima, ma vuol dire che un'agenzia creativa mette la creatività al centro perché è il suo prodotto e quindi la passione delle persone è per la creatività, la creatività con tutte le sue facce, le sue forme, quindi tutti i vari, non siamo ormai, questo è abbastanza scontato, non pensare alla creatività come la campagna creativa o lo spot, ma la creatività come il modo creativo di orchestrare una comunicazione, che include anche il media, che include anche il CXM da noi, però il modello organizzativo deve essere a supporto di questo, per generare il nostro prodotto e la creatività, il prodotto non si genera semplicemente con l'ultimo miglio che è l'idea, ma si genera con la pianificazione, con la gestione, se non sono bravo a proporre, a vendere una campagna creativa, questa non prenderà la luce, se non la so valorizzare in termini economici di efficienza produttiva e di capacità di portarmi a casa il giusto budget per fare una campagna, non verrà bene come deve essere, quindi la forza di un'agenzia creativa forte è proprio quella di avere un modello, un'organizzazione, dei flussi, una cultura anche che lavora per la creatività e questo è uno sforzo grande ma divertente e su cui partiamo già da ottime basi e che vogliamo accelerare in questo momento ancora più.